il gas in altri posti è a 2.79 però prima che vado fino là mi fermo qui devo mettere il gas per andare come si chiama dopodomani fino al vernia planet sono un'ora di strada andata un'ora di ritorno l'altra volta eravamo scesi di là oh f***** s***** ti potrai prendere tipo dei calzini domani una maglietta da mettere sotto è uscita da un po' però con maniche corte e beh certo ma deve essere quella lì così la cannottiera può essere e beh basta che non si vede è uscita alle 5 e un quarto giusto? 5.45 dobbiamo essere lì 6.45 dobbiamo essere lì quindi alle 5 dobbiamo partire no che è? alle 6 e un mezzo alle 6 e un mezzo se un'ora e venti ad arrivare alle 5.45 sono le 6 meno un quarto 6 6 meno un quarto vuol dire che dobbiamo partire alle alle 4 e mezzo 6 meno un quarto 6 meno un quarto 5 meno un quarto 4 e mezza 4 e mezza 5 e mezza 4 e mezza 4 e mezza non più Grazie a tutti. 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 A me sembra quasi qua dobbiamo fare il Star Wars, però invece ci sono altre zone dove si farà. Questo è il pulmino dei VIP e là c'è la WAZ dei Super VIP. Un'ora e un'ora e un'ora e un'ora e un'ora e mezza fa praticamente. le 4 o' e un'ora e un'ora e un'ora e un'ora e un'ora e un'ora e una cosa... eccomi qua vestito da legionario bellissimo il mantello grazie il sedile il sedile mi si è rotto un'altra volta questo punto qua non so se si vede qua così si è dissaldato capito non so se si vede proprio lì qua ancora tiene l'avevo già fatto saldare una volta che si era rotto in ambe due le parti adesso si è rotto di nuovo lì sarebbe da cambiare il metallo totalmente perché è veramente un metallo proprio di sicurezza zero sicurezza zero ecco perché la danno al 30% di sicurezza perché non vale un watts vabbè devo farlo fare bisogna togliere il sedile ecco questa è la rottura che c'è stata praticamente una qua così una qua questa qua una crepa e poi ovviamente l'altra proprio materiale ecco scurriere eee scurriere Grazie a tutti.